C'è una partita che per tutti fino al secondo, terzo quarto la sua squadra ha tenuto? Sì, abbiamo pagato eccessivamente l'altissima percentuale dei tiri da tre punti di Cassese questo logicamente ha portato soprattutto nell'ultimo quarto ad accelerare forse un po' troppo quelle che sono state le nostre situazioni offensive e quindi ripermettendo ancora una volta a Civitano di avere sempre un po' stesso tra le mani Sì, forse siamo stati molto bravi per trenta minuti, negli ultimi dieci ci siamo un po' disuniti anche subendo questa capacità nel tiro a tre punti la partecipità nuova I suoi ragazzi comunque questa sera hanno disputato un'ottima partita che tipo di allenamento avete fatto per affrontare questa gara? Ora dobbiamo capire come migliorare soprattutto gli ultimi dieci minuti sotto l'aspetto della concentrazione perché abbiamo praticamente concesso un po' troppo anche se poi dopo alcune situazioni sono stati anche bravi i ragazzi del Civitanova noi siamo stati bravi per trenta minuti ora dobbiamo velocemente non pensare più a questa cosa perché domenica ci aspetta una partita molto difficile come Sansevero Quindi la prossima partita contro Sansevero sappiamo che è un campo difficile come affronterà la gara? Facendo le cose che abbiamo fatto fino adesso e probabilmente rivedendo alcune situazioni che non ci hanno portato risultato Ok, grazie per l'intervista in bocca al lupo Grazie Grazie Grazie